Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo studio, oggi siamo su Among Us e adesso andiamo a fare una bella pubblica aspettate un attimo ragazzi, aspettate un attimo a favore ok ragazzi eccomi, adesso andiamo a fare una bella tela fate un attimo, cambiate un attimo posto perchè è qualcosa di più bella e niente, fare Among Us non fa brutti scherzi eh, e già oggi ne ho abbastanza beh che cavolo, beh che cavolo però alleluia andiamo in questo va oh funziona alleluia andiamo a questo ciao andiamo, andiamo, andiamo cosa si vede ok va bene, va ultra bene va ultra 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 bene non mi fido di nessuno come sempre guarda, si può prendere il centro elettrico ecco oh, oh no eh qualcuno mi ha chiesto dentro ok questo dovete aspettare un attimo poi non c'è nulla da fare tipo ok aspetto ma che viene una e mi ammazza corri 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 Fusa Ok No, 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 non vattene via Otteni la rossa Già che avuto teso e mi segui ancora No, no, è rossa ragazzi, è rossa È la rossa, è la rossa Per forza È la rossa No, 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 non mi seguire Ok Sembra che non mi sta più in seguire Sì, è che non era lui Beh, sicuramente, se non mi seguire mi ammazzava Cioè Un po' ero voto in rossa Perché per me è quello, cioè Perché stava fermo, per forza è lui Perché stava fermo e chiudeva le porte Cioè, per forza Per sicuro si è meglio andare via da tutti Che non voglio Non voglio perdere Ok Il rossa Ok Io che avevo detto è il rossa E per forza è il rossa Eppure aver regguitato Anzi, per forza è il rossa Sì, perché cavolo Dovevo riavviare Perché c'era quella cosa là Vabbè, ragazzi, vediamo la prossima partita Comunque sono stato veramente, 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 veramente La leggenda Vediamo la prossima partita Ok, ragazzi Funziona Tocca qualcosa di bugato Ok Ecco, sono in 1 su 10 Ecco qua Perfetto Se vediamo quando entro magari più di uno Magari Grazie, eccomi Sono andato in un'altra partita per Aspettate Perché non voglio aspettare un rottore, ecco Ecco La ogni volta devo sempre aspettare un rottore Ciao tizio Ciao tizia Si chiama capitano Capitano No, no, quello l'hai giubitato, due Quei due scemi hanno giubitato Oh Le due intelligenti sono venuti Ok Beh Ok Ma dai Ma perché quello l'hai giubitato No Oh Oh Alleluia Lo state qua Tu Ok Ok Se ne è una moto Non ce l'ho di caso Ok Non è una moto Non è una moto Se sono mi seguito Mi ammazzava Per me è il verde No, non è il verde Dai Verde mattina C'è un leggeri dubbi sul verde Non per dire Eh, mi potevi ammazzare Ok 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 Chi sarà mai stato Se è stato Rauro Eh, ma se mi giro che non mi ricordo nessun colore Zero virgolazione Mi ricordo Oh, vabbè Che schifo Non do perché Se è un schermo Se non mi ricordo di colore Allora David non è Deve essere a Mais Mmh Meglio fare attenzione su Mais Che mi sembra lui Perché c'era Laura Oh, c'era Mais Deve essere La Deve essere Deve essere Mais Miss Non è Mais Miss Io chiamo Mais Nicolai Nicolai Oh, grandi Eh, ma Buttate fuori Ciao, ciao Nice Non era lui C'è, sì Sto pure scritto No, infatti C'è Era lui fuori Anche se ho avuto difficoltà a ricordare Bene, ragazzi Ultima partita E Stacchiamo il video Allora Impastore Questa si chiama Ma una tizia Boh, chi lo sa Eh, ma Qualcuno potrebbe venire L'italia si chiama impastore Deve essere italiano Poi c'è uno che si chiama player Sicuramente inglese Nick Penso che sia italiano Infatti Per forza è l'italiano Sto scritto impastore Prendendo un metto comodo Su questa sedia Vabbè Ci vediamo Quando inizia Stacchio di partita Va Ok, sì L'italia si inizia Tra due Uno E bambate Che sono Che fa che non sono Impastore Non voglio essere Impastore Ok Sto gioco Lo voglio bene Quando fa così Quando io dico Non voglio essere Impastore Mi ascolta L'unico gioco E' una con Crash Royale Poi ho beccato scintilla Io dico Non voglio beccare scintilla Poi becco scintilla Qui c'ho qualcosa Qualcuno Qualcosella Oddio Voi no No Non mi seguire Non mi No No E' lui E' lui E' lui No No Non voglio problemi Grazie Ma What No Giallo Non è Poi Poteva ammazzare Boh Ti lascio vedere C'è un po' di dubbi Sul giallo Bello Bello scherzetto Bello scherzetto Questo è proprio Uno scherzo Mi sono disconnesso La serie Perché poi Non stavo manco laggando Vabbè No ragazzi Mi rispettate Con questa partita Per questo Viglia Sera Sotto A salire Scrivete al canale Attivate la campanellina E Stasera Non so se sarò in live No Non sarò in live Stasera E noi ci vediamo Domani Con un prossimo video Ciao Ciao